eccomi qua ciao a tutti buonasera chiedo scusa per avere improvvisato questa live abbiamo appena finito di leggere l'audio libro che sto proponendo alle persone che sostengono il mio canale con gli abbonamenti quindi ho fatto un pochino tardi oggi chiedo umilmente scusa però ho deciso di ok ho fatto una breve prova per vedere se l'audio funziona bene ho spostato il microfono come avete visto spero di riuscire a offrire una qualità migliore spero non si sentano ronzi o suoni fastidiosi insomma se ve lo volete dire con gentilezza io gradisco bene allora innanzitutto voglio salutare tutte le persone presenti ciao franco ben ritrovato e ciao a tutte le persone che sono presenti ma non si palesano oppure che recupereranno questa lettura più avanti in un secondo momento ho scelto questo romanzo breve di bram stalker perché mi incuriosisce moltissimo e credo sia ambientato in egitto lo scoprirò in vostra compagnia spero di riuscire a a deliziarvi con una bella storia quindi buon ascolto a voi buona lettura a me con il gioiello delle sette stelle di bram stalker allora disconnetto il telefono se esserci problemi di audio per cortesia fatemelo notare vi ringrazio bene allora il gioiello delle sette stelle è un romanzo breve composto da più o meno 20 capitoli io penso di riuscire a leggerne due o tre questa questa notte vediamo insomma che cosa riesco a combinare quindi di nuovo buon ascolto a voi buona lettura a me bram stalker il gioiello delle sette stelle 1 sembrava tutto così reale che mi pareva difficile credere che fosse già accaduto tuttavia ogni evento si congiungeva non come una nuova tappa nella sequenza logica dei fatti ma come un qualcosa di ineluttabile è così che ricordi si prendono gioco di noi nel bene come nel male nella felicità come nel dolore nella fortuna come nella disgrazia la vita è un insieme di cose piacevole e di amarezze e ciò che è stato diventa eterno la piccola barca abbandonò di nuovo l'accecante sole di luglio per scivolare nella frescura degli ombrosi rami dei salici mentre i remi cessando di frangere le onde tranquille brillavano e risplendevano d'acqua io stavo in piedi nella barca che oscillava mentre lei seduta ferma e composta spostava con le sue mani delicate i rami flessuosi e si difendeva da quelli che liberi si riversavano sul nostro percorso l'acqua sembrava dorata sotto la luminosa volta verde e le rive erano ricoperte di un'erba a color smeraldo di nuovo eravamo nell'ombra fresca con i mille rumori della natura che si manifestavano dentro e fuori il nostro romantico eremo e che si univano a quella dolce indolenza che fa dimenticare sia i dispiaceri che le gioie non meno sconvolgenti di questo immenso mondo in quella beata solitudine la ragazza dimenticando le convenzioni della sua rigida educazione mi parlò di nuovo con naturalezza e come se sognasse della solitudine che rattristava la sua nuova vita mi raccontò con infinito dolore come a casa sua tutti fossero di fatto isolati dalla generosità sua e di suo padre poiché là diceva la fiducia non aveva altare e la simpatia non aveva santuario il volto di suo padre risultava tanto estraneo quanto la civiltà di antiche popolazioni ancora una volta la mia saggezza di uomo e la mia esperienza costruita nel corso degli anni si erano spontaneamente messe a disposizione di quella giovane donna poiché io come individuo non avevo voce in capitolo e dovevo semplicemente obbedire a degli ordini imperativi una volta in più questi ripresero a sfuggire moltiplicandosi all'infinito poiché è nel mistero del sogno che l'esistenza si sublima e si rigenera mutando anche se resta simile a se stessa come il genio di un musicista in una toccata e fuga così i ricordi si dissolvono senza fine nei sogni subito si spalancarono le porte del sogno e mentre mi svegliavo compresi il motivo dei rumori che mi avevano disturbato la vita nello stato di veglia è prosaica c'era qualcuno che bussava e suonava a una porta mi resi conto che chiamavano fuori della mia porta ma non c'era nessuno sveglio per aprire indossai la vestaglia e scesi nell'atrio una volta aperto mi trovai di fronte a un uomo elegante che suonava e bussava concitatamente non appena mi vide smise fece un cenno di saluto con il cappello e si sfilò una lettera dalla tasca un elegante carrozza era ferma davanti alla mia porta i cavalli erano senza fiato come se avessero corso a lungo un poliziotto con la lanterna ancora accesa insospettito dal rumore era rimasto lì vicino vi chiedo scusa per il disturbo signore ma ho ricevuto ordini precisi non dovevo perdere tempo ma bussare suonare finché mi avessero aperto posso domandarvi signore se il signor malcolm rossa abita qui sono io malcolm rossa allora questa lettera è per voi e questa carrozza è a vostra disposizione afferrai con curiosità la lettera che mi porgeva rientrai quindi nell'ingresso socchiudendo la porta e accesi la luce la lettera mostrava una scrittura che mi era ignota ma certamente femminile cominciava così senza alcun preambolo del tipo caro signore avete promesso di aiutarmi volentieri in caso di bisogno e sono convinta che siate stato sincero l'occasione giunge prima di quanto mi aspettassi mi trovo in una situazione terribile e non so come comportarmi né a chi rivolgermi temo che abbiano tentato di uccidere mio padre ma ringraziando dio è ancora vivo è in stato di completa incoscienza sono stati chiamati i medici e la polizia ma non ho fiducia in nessuno venite immediatamente se vi è possibile perdonatemi se potete vi renderò conto più tardi di cosa significhi avervi chiesto ciò ora però non riesco a pensare a niente venite venite immediatamente margaret trelawney mentre leggevo la lettera gioia e dispiacere lottavano nel mio animo ma il pensiero dominante era questo lei era in pericolo e aveva chiamato proprio me non era quindi un caso il fatto che l'avessi sognata chiamai l'uomo che mi aveva portato la lettera e gli dissi aspettatemi sarò da voi in un istante poi mi precipitai su per le scale mi ci vollero pochi minuti per lavarmi e vestirmi ben presto la nostra carrozza correva per le strade era una mattina di mercato e quando arrivamo a piccadilli incontrammo una fila ininterrotta di carri provenienti dall'ovest ma per il resto del percorso la strada era libera e così avanzammo rapidamente avevo chiesto al giovanotto di entrare con me all'interno della carrozza in modo da potermi raccontare strada facendo cos'era accaduto esattamente seduto goffamente con il cappello sulle ginocchia cominciò a raccontare la signorina trelawney ha mandato un domestico a dirci di preparare immediatamente una carrozza una volta pronti è venuta lei stessa mi ha consegnato la lettera e ha detto a morgan il cocchiere di andare il più veloce possibile ha poi aggiunto che non avrei dovuto perdere un secondo e che avrei dovuto bussare senza smettere finché qualcuno non mi avesse aperto sì lo so lo so me l'avete già detto vorrei però sapere per quale motivo la signorina trelawney mi cerca che cosa è successo a casa non lo so di preciso nemmeno io signore salvo il fatto che il nostro padrone è stato trovato privo di conoscenza nella sua camera e che le sue lenzuola erano piene di sangue fino a questo momento non ha ancora ripreso conoscenza lo ha trovato la signorina trelawney come è possibile che lo abbia scoperto a un'ora simile suppongo che fosse nel cuore della notte non saprei signore non ho sentito parlare di alcun dettaglio avanzammo rapidamente sul ponte di knight e il leggero rumore della carrozza non disturbava la quiete dell'alba risalimmo kensington palace road e ci fermammo quasi subito davanti a una grande casa situata sul lato sinistro più vicina a mio parere a notting hill che a kensington era una casa stupenda non solo per le sue dimensioni ma anche per la sua architettura sembrava imponente anche alla debole luce dell'alba che tende a falsare le dimensioni degli oggetti la signorina trelawney mi accolse nell'ingresso non era affatto impaurita sembrava infatti che in casa dirigesse ogni cosa con l'autorità che si addice a una persona di nobile nascita malgrado fosse molto debole e pallida come la neve nell'atrio vi erano anche numerosi domestici gli uomini erano riuniti intorno alla porta d'ingresso mentre le donne stavano discretamente nascoste nel vano delle altre porte dell'anticamera un ispettore di polizia stava parlando con la signorina trelawney due uomini in divisa e uno in borghese gli stavano accanto stringendomi la mano il suo sguardo espresse profondo sollievo mi accolse con una semplice frase sapevo che sareste venuto si voltò quindi verso il poliziotto conoscete il signor ross sì lo conosco rispose l'ispettore di polizia salutandomi penso si ricordi che ho avuto l'onore di lavorare con lui nel caso brixton coining non l'avevo riconosciuto a prima vista poiché tutta la mia attenzione era assorbita dalla signorina trelawney certo ispettore dolan mi ricordo perfettamente risposi stringendogli la mano notai che la nostra vecchia conoscenza costituiva un sollievo per la signorina trelawney c'era tuttavia nel suo comportamento un certo disagio che attirò la mia attenzione sarebbe stato probabilmente meno imbarazzante per lei parlarmi a quattro occhi così dissi all'ispettore sarebbe meglio che la signorina trelawney restasse sola con me per qualche minuto certamente avrete già sentito tutto quello che sa capirai meglio la situazione se le potessi fare qualche domanda esamineremo poi tutto insieme se voi permetterete sarò felice di fornirvi tutto l'aiuto possibile signore rispose con calore seguendo la signorina trelawney entrai in una stanza arredata con gusto che dava sull'ingresso e con la vista sul giardino posto sul retro della casa una volta entrati e chiusa la porta lei disse vi ringrazierò poi per la bontà che avete dimostrato venendo in mio aiuto in questo momento di difficoltà mi potrete aiutare concretamente una volta conosciuti i fatti procedete feci ditemi tutto quello che sapete senza risparmiarmi alcun dettaglio neanche il più insignificante proseguì immediatamente fui svegliata da un rumore ma lì per lì non capì di che cosa si trattasse sapevo soltanto che l'avevo sentito nel sonno subito dopo mi svegliai con il cuore in gola prestai attenzione a un rumore proveniente dalla camera di mio padre la mia stanza confinava con confina con la sua così la mia stanza confina con la sua così spesso prima di addormentarmi lo sento muoversi lavora fino a tardi a volte tardissimo al punto che se mi sveglio di buon'ora come talvolta mi accade alle prime luci dell'alba lo sento ancora muoversi ho provato una volta a riprenderlo ma poi non ne ho più avuto il coraggio sapete fino a che punto può essere gelido e severo forse vi ricorderete cosa vi raccontai una volta quando rimane calmo in queste circostanze poi può diventare terribile lo sopporto meglio quando è in collera ma quando parla lentamente a sangue freddo quando gli angoli della bocca gli si sollevano e appaiono i suoi denti aguzzi mi sembra che non so la notte scorsa mi sono alzata senza far rumore mi sono avvicinata alla porta silenziosamente poiché avevo davvero paura di disturbarlo non ho sentito muoversi nulla nessun grido soltanto il rumore di qualcosa trascinato e una respirazione lenta e difficoltosa era tremendo ascoltare là nell'oscurità e in silenzio temendo temendo non so che cosa poi mi sono fatta coraggio e ho dischiuso la porta il più delicatamente possibile all'interno era tutto scuro intravedevo soltanto il contorno delle finestre ma in quell'oscurità la respirazione si faceva più percettibile era spaventoso ascoltavo ma l'unico rumore che sentivo era quel rantolo spalancai di colpo la porta avevo paura di aprirla lentamente poiché temevo che dietro di essa si nascondesse qualcosa pronto a saltarmi addosso allora accesi la luce entrai per prima cosa guardai il letto le lenzuola erano tutte spiegazzate e ciò dimostrava che mio padre si era coricato al centro del letto c'era una grande macchia rosso scuro che arrivava fino al bordo a quella vista il mio cuore cessò di battere mentre guardavo sentì il respiro affannoso provenire dall'altro lato della stanza e mi voltai in quella direzione mio padre era sdraiato sul fianco con il braccio destro sotto di lui come se il suo corpo fosse stato trascinato fin là e quindi abbandonato le tracce di sangue attraversavano tutta la stanza fino al letto quando mi chinai per aiutarlo mi accorsi che la pozza di sangue intorno a lui era particolarmente rossa e brillante era steso esattamente davanti al forciere in pigiama la manica sinistra sollevata mostrava il suo braccio nudo teso in direzione della cassaforte quel braccio aveva un aspetto terribile era tutto macchiato di sangue con la pelle tagliuzzata intorno a un letto d'oro che portava al polso non sapevo che portasse quel gioiello la sorpresa mi provocò un ulteriore spavento si fermò un istante poi riprese con voce più calma non persi tempo chiamai aiuto poiché temevo che perdesse il suo sangue suonai poi uscì per chiamare aiuto il più forte possibile nel giro di poco tempo anche se allora mi era parso incredibilmente lungo arrivarono i primi domestici poi altri ancora sino al momento in cui la camera fu piena di gente spettinata in vestaglia con un'espressione attonita distendemmo quindi mio padre su un divano nel frattempo la governante la signora grant che più di ogni altro aveva mantenuto la calma stava cercando di capire da dove provenisse tutto quel sangue rapidamente ci rendemmo conto che proveniva dal braccio nudo aveva una ferita profonda non un taglionetto da coltello ma uno strappo irregolare tutto intorno al polso come se avesse mirato alla vena la signora grant gli annodò un fazzoletto intorno alla ferita stringendolo come un tagliacarte d'argento l'emorragia si arrestò immediatamente ripresami finalmente dallo spavento inviai un domestico dal medico e un altro dalla polizia una volta partiti ebbi l'impressione di essere assolutamente sola nella casa a parte i domestici e di non sapere nulla né di mio padre né di altro trovai allora un profondo bisogno di avere vicino qualcuno che mi potesse aiutare mi ricordai così di voi e della vostra gentile offerta durante quella gita in barca sotto e i salici senza riflettere feci preparare immediatamente una carrozza che vi mandai si fermò per un attimo non avevo intenzione di esprimere un parere la guardai credo che mi comprendesse poiché i suoi occhi incontrarono i miei per poi abbassarsi rapidamente le sue guance erano rosse come papaveri fece uno sforzo notevole per continuare il suo racconto il medico arrivò molto in fretta mise un laccio emostatico al braccio di mio padre e quindi fece ritorno a casa sua per prendere degli altri strumenti devo dire che ritornò quasi immediatamente poi arrivò un agente di polizia che inviò un messaggio al commissariato poco tempo dopo arrivò l'ispettore per ultimo arrivaste voi seguì un lungo silenzio e io mi azzardai a prenderle la mano e a tenerla tra le mie per un istante senza aggiungere una parola aprimo la porta e ci dirigemmo verso l'ispettore che ci venne incontro ho già esaminato tutto e ho inviato un messaggio a scotland yard vedete signor rossa poiché mi è parso che in questo caso vi siano parecchie circostanze strane ho ritenuto opportuno farci affiancare dal miglior uomo del dipartimento di investigazione criminale ho quindi chiesto che ci mandassero subito il sergente doe vi ricorderete certamente di lui signore vi siete conosciuti in quel caso di avvelenamento a hoxton sì dissi me ne ricordo molto bene in quel caso in altri successivi mi complimentai per il suo intuito e per la sua determinazione ha una sicurezza che non ho mai visto quando ero sul banco della difesa convinto dell'innocenza del mio cliente mi sono sempre rallegrato di averlo come controparte che bel complimento esclamò l'ispettore soddisfatto sono contento che approviate la mia scelta ho fatto quindi bene a chiamarlo non potevate trovare persona migliore risposi con calore senza dubbio con l'aiuto di entrambi giungeremo a una conclusione a ciò che si nasconde dietro questo mistero salimo quindi nella camera del signor trelawny che trovammo esattamente nella posizione descritta dalla figlia in quel momento suonarono alla porta d'ingresso un minuto dopo entrava nella camera un giovane con il naso aquilino gli occhi grigi penetranti e la fronte larga e squadrata tipica di un uomo di studio aveva una borsa nera che aprì immediatamente la signorina trelawny fece le presentazioni dottor winchester vi presento il signor ross e l'ispettore dolan ci salutammo rapidamente e lui si mise subito al lavoro nell'attesa lo osservammo attentamente mentre medicava la ferita si voltò un attimo verso il commissario per fargli notare alcuni particolari della lesione dolan scrisse alcuni appunti osservate i numerosi tagli e graffi paralleli che cominciano sul lato sinistro del polso in alcuni punti sfiorano all'arteria radiale queste piccole ferite che vedete qui profonde e lacero contuse sembrano essere state provocate da un corpo contundente questa in particolare sembra essere stata provocata da un oggetto tagliente tutto intorno la carne pare sia stata strappata con una pressione laterale si voltò quindi verso la signorina trelawny pensate che questo braccialetto si possa togliere non è assolutamente necessario poiché si trova in un punto del polso dove non stringe ma in seguito potrebbe far sentire meglio il paziente la povera ragazza tutta rossa in viso rispose a mezza voce non saprei io sono venuta a vivere con mio padre da poco tempo conosco così poco della sua vita e dei suoi pensieri che temo di non poter essere un valido aiuto dopo averle rivolto uno sguardo penetrante il medico le disse con molta dolcezza scusatemi non lo sapevo in ogni caso non dovete preoccuparvi per il momento non è necessario togliere il braccialetto se lo fosse stato io lo avrei già fatto assumendome nelle responsabilità se diventasse necessario in seguito lo potremmo facilmente tagliare con una lima vostro padre ha senz'altro un buon motivo per custodirlo così guardate c'è attaccata una piccola chiave smise di parlare si chinò poi prese la candela che tenevo in mano e l'abbassò in modo da illuminare il braccialetto mi fece cenno di tenere la candela nella stessa posizione mentre estraeva una lente dalla tasca terminato il minuscolo esame si alzò e porse la lente a dolan dicendogli sarebbe meglio che lo esaminaste anche voi non è un braccialetto comune l'oro è lavorato su maglie di acciaio triple esaminate i punti in cui è strappato questo braccialetto non può essere tolto facilmente una comune lima non basterà il commissario si chinò pesantemente ma poiché non arrivava abbastanza vicino al malato si inginocchiò presso il divano esaminò minuziosamente il braccialetto quindi si alzò e mi passò la lente potete osservare voi stesso disse e se lo desidera anche la signorina iniziò quindi a scrivere sul suo taccuino accettai la sua proposta ma prima porsi la lente alla signorina trelony non sarebbe meglio che la osservaste voi per prima esitò fece un cenno di rifiuto con la mano e poi rispose con slancio o no se mio padre avesse voluto me lo avrebbe certamente mostrato non intendo guardarlo senza il suo consenso poi aggiunse credendo che questa sua delicatezza potesse offendere i presenti naturalmente è giusto che voi lo abbiate osservato dovete esaminare studiare tutto per questo vi sono riconoscente si voltò notai che piangeva sommessamente era chiaro che nonostante i guai era addolorata per il fatto di non sapere nulla del padre dimostrare quella sua debolezza in un momento simile davanti a degli estranei il fatto che ci fossero solo uomini non aumentava la sua vergogna anzi le dava un certo sollievo cercando di interpretare i suoi sentimenti pensavo potesse ritenersi fortunata di non essere vista in quello stato da altre donne che intuiscono le situazioni meglio degli uomini terminato il mio esame mi rialzai il medico si mise nuovamente accanto al divano per proseguire le sue operazioni il commissario dolan mi sussurrò a bassa voce penso che siamo fortunati con questo medico annui ed ero sul punto di aggiungere qualche parola di apprezzamento per il suo intuito quando bussarono alla porta 2 il commissario dolan si diresse lentamente verso la porta per una tacita intesa aveva assunto la direzione delle operazioni eravamo in attesa socchiuse la porta poi con un gesto di grande sollievo la spalancò entrò un uomo giovane appena rasato alto e magro con un viso interessante dagli occhi vivaci che sembravano afferrare tutto con un solo sguardo appena entrato il commissario gli strinse la mano calorosamente sono venuto appena ho ricevuto il vostro messaggio signore sono felice di avere sempre la vostra fiducia e l'avrete sempre disse il commissario con convinzione non ho dimenticato i bei tempi passati e bow street non li dimenticherò mai quindi senza altri per eliminare raccontò tutto ciò che era accaduto fino a quel momento il sergente do fece qualche domanda necessaria per rendersi conto dei fatti e delle persone in generale dolan che conosceva a fondo il suo mestiere prevedeva le domande dando tutte le informazioni necessarie ogni tanto il sergente do gettava una rapida occhiata a tutti intorno a volte su uno di noi a volte sulla stanza o su una parte di essa e a volte sul ferito che giaceva privo di sensi sul divano quando il commissario ebbe terminato il sergente si voltò verso di me forse vi ricorderete di me signore ho lavorato con voi nel caso hoxton mi disse mi ricordo molto bene di voi risposi stringendogli la mano ovviamente sergente do siete interamente responsabile di questo caso aggiunse il commissario seguendo i vostri ordini spero commissario rispose il sergente interrompendolo l'altro scosse la testa mi sembra che la situazione richiede il tempo e le capacità di un solo uomo o altri impegni ma sono più che interessato al caso se potrò aiutarvi in qualche modo ne sarò ben felice benissimo signore concluse l'altro accettando così la nuova responsabilità e iniziando personalmente le indagini si rivolse dapprima al medico chiedendogli nome e indirizzo quindi lo pregò di stendere un rapporto completo che in caso di necessità avrebbe comunicato alla centrale il dottor winchester inchinandosi rispettosamente promise di farlo poi il sergente mi si avvicinò dicendomi sottovoce il vostro medico mi piace credo che lavoreremo bene insieme poi voltandosi verso la signorina treloni le domandò per favore ditemi tutto ciò che potete sul conto di vostro padre il suo modo di vivere e tutto ciò che lo interessa e lo riguarda stavo per interromperlo per dirgli che la ragazza aveva già confessato di non conoscere nulla del padre né del suo modo di vivere ma lei aveva già alzato le mani per cittirmi ahimè so ben poco per non dire quasi niente il commissario dolan e il signor rose sono già al corrente di tutto quello che era mia conoscenza allora signorina faremo tutto il possibile disse l'ufficiale di polizia comincerò con un attento esame dei fatti dite che vi trovavate dall'altro lato della porta quando avete sentito un rumore ero nella mia camera quando ho sentito quello strano rumore o meglio quello che doveva essere l'inizio di quel rumore che mi ha svegliato la porta di mio padre era chiusa e potevo vedere l'intero pianerottole i gradini delle scale nessuno sarebbe potuto uscire da quella porta senza essere visto da me se è questo che volete sapere esattamente ciò che mi interessava signorina se tutti coloro che sanno qualcosa si esprimessero così chiaramente giungeremmo presto alla conclusione allora devo pensare che l'aggressore di chiunque si tratti sia ancora in questa stanza c'era un tono quasi interrogativo in quella frase ma nessuno rispose ne sapeva tanto quanto noi su questo particolare ne sapeva tanto quanto noi su questo particolare si avvicinò quindi al letto e dopo averlo osservato con attenzione domandò è stato toccato no che io sappia rispose la signorina trelawney ma chiederò alla governante la signora grant e suonò per chiamarla la signora grant arrivò subito entrate la invitò la signorina trelawney questi signori vorrebbero sapere se questo letto è stato toccato non da me signorina allora disse la signorina trelawney voltandosi verso il sergente do nessuno l'ha potuto fare la signora grant e io siamo sempre presenti e non credo che altri domestici si siano avvicinati al letto vedete mio padre era disteso qui esattamente sotto il forziere abbiamo mandato via quasi tutti subito si avvicinò quindi alle finestre chiuse le imposte erano chiuse domandò do in tono distaccato aspettando una risposta negativa che gli fu data in tutto questo tempo il dottor winchester si era occupato del malato ora curandogli le ferite al polso ora esaminandogli attentamente la testa il collo e il cuore più volte avvicinò il suo naso alla bocca del paziente facendo una smorfia ogni volta si guardava intorno come se cercasse qualcosa udimo allora la voce forte e profonda dell'investigatore a quanto mi è dato di capire lo scopo da raggiungere era quello di avvicinare questa chiave alla serratura del forziere sembra ci sia qualche segreto nel meccanismo che non riesco a scoprire nonostante abbia lavorato un anno da chub prima di entrare nella polizia è una serratura con una combinazione di sette lettere ma sembra ci sia un modo di bloccarla proviene da chatwood dove andrò per vedere se riesco a trovare qualcosa di interessante si voltò quindi verso il dottore come se per il momento avesse terminato c'è forse qualcosa che potete dirmi ora dottore senza aspettare di dirigere di redigere un rapporto completo se esiste un minimo dubbio posso attendere ma sarebbe meglio se potessi sapere subito qualcosa di preciso per quanto mi riguarda rispose il dottor winchester non ho motivo di aspettare naturalmente farò poi un rapporto completo nel frattempo vi dirò tutto quello che so anche se non è molto è tutto ciò che penso per quanto impreciso sia il paziente non ha ferite alla testa che possano giustificare questo stato di incoscienza nel quale si trova devo pensare che sia stato drogato che sia sotto qualche influsso ipnotico a quanto mi è dato di vedere non è stato drogato almeno non con un narcotico di cui conosca le proprietà in questa stanza c'è un persistente odore di mummia che rende impossibile percepire un odore più tenue anche voi certamente sentirete dolori tipici sentirete odori tipici egiziani come bitume nardo gomme aromatiche spezie è possibile che in qualche angolo della stanza tra le antichità e nascosta da questi odori più forti ci sia una sostanza che produca l'effetto che vediamo nel paziente è infatti possibile che abbia assunto qualche droga e che si sia quindi ferito ma non credo che sia possibile altre circostanze possono provare l'inesattezza delle mie congetture fino a prova contraria possiamo considerarla come un'ipotesi a questo punto il sergente do lo interruppe potrebbe essere possibile ma se così fosse dovremmo trovare lo strumento con il quale è stato ferito al polso ci sarebbero delle tracce di sangue da qualche parte vero disse il dottore sistemandosi gli occhiali come se si preparasse per una discussione ma se vogliamo ritenere che il paziente si sia servito di qualche droga misteriosa questa non deve avere avuto un effetto immediato infatti ne ignoriamo ancora gli effetti sempre che le ipotesi siano esatte e dobbiamo essere pronti a considerare tutto a questo punto la signorina trelawney si unì alla conversazione potrebbe essere vero ciò che riguarda l'azione della droga ma in base alla seconda parte della vostra ipotesi la ferita può essere stata inferta dallo stesso paziente dopo che la droga aveva fatto effetto esatto esclamarono insieme l'investigatore e il medico dunque dottore continuò la ragazza poiché la vostra ipotesi non esaurisce tutte le possibilità dobbiamo pensare che qualche altra variante possa essere esatta penso quindi che la prima cosa che dobbiamo cercare partendo da questa ipotesi sia l'arma con cui mio padre è stato ferito al polso può aver messo l'arma nel forziere prima di perdere completamente i sensi obiettai esponendo stupidamente un'idea appena abbozzata non è possibile si affrettò ad affermare il dottore o almeno è improbabile aggiunse prudentemente chinandosi leggermente dalla mia parte vedete la mano sinistra è coperta di sangue ma non c'è alcuna traccia di sangue sul forziere è vero dissi seguì un lungo silenzio e il dottore fu il primo a interromperlo ci serve un'infermiera il più presto possibile e ne conosco una ad alta vado a chiamarla immediatamente sperando che sia disponibile uno di voi deve rimanere con il malato fino al mio ritorno forse sarà necessario trasportarlo in un'altra stanza nel frattempo è meglio che resti qui signorina trelony posso essere sicuro che voi o la signora grant starete qui fino al mio ritorno non soltanto nella camera ma presso il malato senza perderlo di vista la giovane donna per tutta risposta si sedette accanto al divano il dottore le impartì qualche istruzione nel caso il padre avesse ripreso conoscenza prima del suo ritorno il primo a muoversi subito dopo fu il commissario dolan che si avvicinò al sergente do dicendogli meglio che io torni al commissariato a meno che naturalmente non desideriate che mi fermi ancora un attimo johnny wright fa ancora parte della vostra sezione domandò per tutta risposta sì vi piacerebbe averlo con voi l'altro fece un cenno di assenso ve lo manderò il più presto possibile potrà restare tutto il tempo che volete gli dirò di prendere ordini unicamente da voi il sergente lo accompagnò fino alla porta grazie signore siete sempre pieno di attenzione per chi lavora con voi per me è un piacere incontrarvi tornerò a scotland yard per fare rapporto al mio capo poi mi recherò a chatwood tornerò il più presto possibile penso che se sarà necessario potrò fermarmi qui uno o due giorni questo forse vi potrà fare comodo e vi conforterà il fatto di sapermi nei paraggi finché questo mistero non sarà chiarito vi sono molto riconoscente prima di riprendere la parola fissò la giovane donna con uno sguardo penetrante prima di andarmene posso dare un'occhiata alla scrivania di vostro padre può darsi che ci sia qualche indizio la sua risposta fu così decisa che ne fu quasi sorpresa lei stessa potete fare tutto ciò che volete per aiutarci a scoprire cosa non funziona il mio padre e che cosa potrà potrà e che cosa potrà proteggerlo in futuro iniziò quindi un sistematico esame del forziere della scrivania trovata una lettera sigillata in un cassetto attraversò il locale per consegnarla alla signorina trelony una lettera indirizzata a me con la scrittura di mio padre esclamò la giovane affrettandosi ad aprirla osservai la sua espressione mentre leggeva ma mi resi subito conto che il sergente dono staccava il suo sguardo penetrante dal volto della signorina trelony spiando anche le sue espressioni più impercettibili da quell'istante mantenni gli occhi fissi su di lui quando la signorina trelony ebbe terminato la sua lettura mi ero fatto un'idea che per il momento tenni per me tra i sospetti dell'ispettore ce ne doveva essere uno che riguardava la signorina trelony stessa per parecchi minuti la signorina tenne la lettera tra le mani con lo sguardo abbassato riflettendo la rilesse quindi con maggiore attenzione e questa volta mi parve di poter capire più facilmente la sua espressione che diventava sempre più intensa quando ebbe terminato la seconda lettura si fermò nuovamente quindi quasi a malincuore forse la lettera all'investigatore questi la lesse velocemente ma senza mutare espressione poi la lesse una seconda volta e infine la diede nuovamente alla signorina trelony che dopo qualche istante me la consegnò nello stesso tempo mi fissò rapidamente con uno sguardo supplicante le sue pallide guance e la fronte arrossirono leggermente presi la lettera distrattamente ma nel complesso ero felice non aveva avuto alcuna difficoltà nel consegnare la lettera all'investigatore e probabilmente non l'avrebbe avuta con nessun altro ma con me ho paura di andare troppo avanti con il filo dei miei pensieri iniziai la lettura sentendo fissi su di me gli occhi della signorina trelony e quelli dell'investigatore mia cara figlia desidero che tu ti attenga tassativamente alle istruzioni contenute in questa lettera e non dovranno subire modifiche di alcun tipo si riferiscono all'eventualità che a partire da questo momento mi succeda qualcosa che né tu né nessun altro si aspetterebbe se venissi improvvisamente misteriosamente colpito sia da una malattia sia da un incidente o da un'aggressione dovrai seguire alla lettera queste istruzioni se non mi trovassi nella mia camera nel momento in cui verificherai lo stato nel quale mi trovo bisognerà che vi sia trasportato il più velocemente possibile anche se fossi morto a partire da quel momento e fino a quando riprenderò conoscenza e potrò impartire nuovi ordini di persona oppure sarò sepolto non dovrò mai essere lasciato solo almeno due persone dovranno rimanere nella camera dal tramonto all'alba sarà opportuno che un'infermiera diplomata entri ogni tanto nella camera per prendere nota dei sintomi permanenti o passeggeri che si possono verificare in me i miei avvocati marvin e jukes 27b lincoln hanno le mie complete istruzioni in caso di morte il signor marvin si è personalmente impegnato a verificare che le mie volontà vengano rispettate ti consiglio figlia mia di tenere vicino a te in casa un amico del quale tu abbia piena fiducia visto che non hai parenti che ti possano consigliare dovrai metterti immediatamente in comunicazione con lui potrei farlo partecipare alla guardia notturna o chiamarlo in qualsiasi momento il sesso di questo amico non ha importanza bisogna in ogni caso che una persona vegli la notte che un assistente di sesso opposto sia sempre disponibile seguimi con attenzione mi auguro che ci siano sempre un uomo e una donna allerta e pronti ad agire come desiderio permettimi di insistere ancora una volta mia cara margaret sulla necessità di seguire le mie istruzioni e di meditare sulle conclusioni per quanto strane possano sembrare se mi ammalassi o se fossi ferito ciò non sarebbe una cosa normale desidero metterti in guardia affinché la tua sorveglianza sia accurata nessuna cosa che si trova nella mia stanza intendo gli oggetti della mia collezione potrà essere tolta o spostata per alcun motivo la posizione di ogni oggetto è stata scelta per una ragione speciale e con un fine ben preciso qualsiasi spostamento sconvolgerebbe i miei piani se avessi bisogno di soldi o di un qualsiasi consiglio il signor marvin sarà a tua disposizione a questo proposito ha ricevuto mie precise istruzioni abel trelony prima di parlare lessi la lettera una seconda volta perché temevo di tradirmi lo scegliere me come amico poteva essere un'occasione unica avevo già motivo di sperare poiché lei mi aveva chiamato proprio all'inizio delle sue difficoltà ma l'amore genera dubbi e io avevo paura così rendendole la lettera dissi so che mi perdonerete signorina trelony se vi sembrerò presuntuoso ma sarò ben lieto di partecipare a questa veglia benché le circostanze siano tristi sarò felicissimo che mi venga concesso questo privilegio vi sono molto riconoscente per il vostro aiuto replicò alla giovane poi aggiunse come riflettendo ma non dovete permettermi di essere troppo egoista so che avete numerosi impegni e per quanto apprezzi il vostro aiuto non sarebbe corretto da parte mia assorbire tutto il vostro tempo se si tratta di questo risposi subito il mio tempo vi appartiene per oggi posso facilmente organizzare il mio lavoro in modo da essere qui nel pomeriggio per fermarmi fino a domani mattina poi se le circostanze lo richiedessero potrò fare in modo di avere ancora più tempo disponibile era molto commossa vedevo i suoi occhi pieni di lacrime voltò la testa l'investigatore rese la parola sono felice di sapere che vi fermerete signor ross sarò anch'io nella casa con il consenso della signorina trelony e se i miei superiori di scotland yard mi autorizzeranno questa lettera pone l'intera vicenda sotto una nuova luce tuttavia il mistero è più fitto che mai se potete aspettarmi qui per un'ora o due andrò alla centrale e poi alla fabbrica dei forzieri poi tornerò e potrete andarvene tranquillo perché io sarò qui quando si allontanò la signorina trelony e io restammo silenziosi quindi lei sollevò per un attimo lo sguardo verso di me non avrei scambiato il mio posto con quello di un re poco dopo si sistemò accanto al capezzale del padre e chiedendomi di non perderlo di vista uscì precipitosamente ritornò nel giro di pochi minuti con la signora grant due cameriere e due domestici che portavano la struttura di un letto di ferro leggero si misero quindi a montarlo e a prepararlo terminato questo lavoro una volta usciti i domestici mi disse è opportuno che sia tutto pronto per il ritorno del medico vorrà certamente che mio padre venga messo a letto e un vero letto è meglio di un divano collocò quindi una sedia accanto al padre e vi si accomodò senza abbandonarlo con lo sguardo mentre esaminavo la stanza si udirono all'esterno rumori di ruote sulla ghiaia qualche minuto dopo bussarono alla porta entrate fu detto ed entrò il dottor winchester accompagnato da una giovane infermiera sono stato fortunato esclamò il medico l'ho trovata subito ed era libera signorina trelony vi presento l'infermiera kennedy 3 il modo in cui le due donne si guardarono mi colpì penso di essere talmente abituato a valutare la personalità dei testimoni e a giudicarli in base ai loro gesti inconsci ai loro comportamenti che questa abitudine si estende alla vita di tutti i giorni anche quando non sono in tribunale a quel punto della mia vita tutto ciò che riguardava la signorina trelony mi interessava poiché era stata colpita dalla nuova arrivata fu istintivamente portato a giudicarla nello stesso modo confrontando l'una con l'altra mi sembrava di approfondire la mia conoscenza della signorina trelony le due donne offrivano un netto contrasto la signora trelony aveva una splendida figura era bruna con tratti regolari aveva degli occhi meravigliosi grandi di un nero vellutato e misteriosamente profondi le sue sopracciglia erano particolari delicatamente disegnate e molto folte erano la cornice ideale per i suoi splendidi occhi anche i suoi capelli erano neri e fini come la seta da tutta la sua persona emanava una perfetta armonia il portamento la figura i capelli gli occhi la bocca carnosa con labbra rosso scarlatto e i denti smaglianti che davano risalto alla parte inferiore del viso mentre gli occhi illuminavano quella superiore la mascella curvava dolcemente dal mento fino alle orecchie mentre le lunghe dita affilate e le mani sembravano dotate di vita propria tutta quella perfezione contribuiva a creare una figura che emanava armonia bellezza fascino al contrario l'infermiera kennedy era di altezza inferiore alla media robusta con braccia e mani grandi ed energiche la sua figura ricordava il colore delle foglie autunnali dopo aver esaminato il letto e scosso i cuscini si rivolse al medico che le diede istruzioni poco dopo in quattro sollevammo il malato ancora privo di sensi dal divano nel primo pomeriggio tornato il sergente do mi recai nel mio ufficio in germain street e mi feci mandare i vestiti i libri e le carte in cui avrei potuto avere bisogno di cui avrei potuto avere bisogno nei giorni seguenti poi andai a svolgere il mio lavoro di uomo di legge quel giorno la corte si riunì fino a tarda ora per terminare una causa importante erano le sei in punto quando mi presentai alla porta di kensington palace road mi avevano sistemato in un'ampia camera vicino a quella del malato quella sera il medico ci ragguagliò sono assolutamente incapace di trovare una valida ragione che giustifichi questo stato di incoscienza ho condotto l'esame più completo che potessi fare sono certo che non c'è alcuna lesione al cervello a dire il vero tutti gli organi vitali sono intatti come sapete ho fatto mangiare del cibo al malato a più riprese soglia chiaramente giovato la sua respirazione è forte e regolare il suo polso più lento e vigoroso di questa mattina non ho trovato alcuna traccia di droghe conosciute e questo stato di incoscienza non assomiglia a nessuno dei numerosi casi di sonno ipnotico che ho potuto osservare all'ospedale charcot di parigi quanto a queste ferite parlando posò dolcemente il dito sul polso bendato non so proprio che cosa pensare potrebbero essere state fatte da una cardatrice ma questa ipotesi è assurda sempre a livello di ipotesi potrebbero essere state inferte da un animale selvatico che voleva affilarsi gli artigli in base a quello che mi avete detto ciò è ugualmente impossibile a proposito avete in casa animali domestici un po strani qualcosa come un gatto tigrino o altri poco comuni la signorina trelloni fece un sorriso triste che mi ferì il cuore oh no rispose mio padre non vuole animali in casa salvo quando sono morti e mummificati queste parole furono pronunciate con una certa amarezza o forse con una punta di gelosia non saprei anche il mio povero gatto è solo tollerato nonostante sia il più adorabile ed educato dei gatti non è ammesso in questa camera mentre parlava sentimmo un leggero raschiare alla porta il volto della signorina trelloni si luminò di colpo e quindi lei si precipitò verso la porta eccolo è il mio silvius quando vuole entrare in una camera si alza sulle zampine posteriori e gratta la maniglia della porta aprì e si rivolse al gatto come a un bimbo lui voleva vedere la sua mamma entra ma devi restare con lei sollevò il gatto e portandolo tra le braccia era certamente un animale stupendo un persiano grigio cincilla dal lungo pelo di seta un animale veramente principesco con un'espressione altera nonostante la sua dolcezza e con grandi zampe che si allungavano una volta a terra mentre lo accarezzava si torceva come un'anguilla e le scappò dalle braccia attraversò correndo la camera per fermarsi davanti a un tavolino basso sul quale stava la mummia di un animale e cominciò a miagolare molto forte la signorina trelloni si inchinò su silvius lo prese in braccio nonostante l'animale cercasse di lottare si dimenasse per scappare non mordeva né graffiava poiché evidentemente adorava la sua bella padrona quando fu però tra le sue braccia smise di miagolare e di dimenarsi lei lo sgridò a bassa voce cattivo non hai mantenuto la parola che la tua mammina aveva dato per te per il momento dalla buonanotte a questi signori e vieni nella camera della tua mamma nel frattempo mi porgeva la zampina del gatto perché io la stringessi così facendo potei ammirare da vicino le sue dimensioni e la sua bellezza ma obiettai la sua zampina sembra un guanto da box pieno di artigli è naturale disse sorridendo non avete notato che il mio silvius ha sette dita guardate gli aprì la zampa che in effetti aveva sette artigli distinti ciascuno nascosto da una guaina fine e delicata mentre gli accarezzavo dolcemente la zampina estrasse dei suoi artigli e senza volere non era infatti in collera anzi faceva le fusa mi graffiò alla mano ritraendo la esclamai istintivamente i suoi artigli tagliano come rasoi il dottor winchester si era avvicinato per esaminare le unghie del gatto mentre parlavo e accarezzavo il gatto per il momento calmo il medico andò alla scrivania per prendere un foglio di carta assorbente e quindi tornò stese il foglio sul palmo della mano e con un semplice scusatemi rivolto alla signorina treloni lo mise sotto la zampa del gatto facendo pressione con l'altra mano il gatto non sembrò apprezzare quella familiarità e cercò di liberare la zampina era esattamente quello che il dottore desiderava poiché così facendo il gatto fece numerose scalfitture sulla carta quindi la signorina treloni portò via il suo adorato animale e tornò dopo due minuti perplessa c'è qualcosa di veramente strano in questa mummia quando silvius è entrato per la prima volta in questa camera l'avevo portato qui ancora cucciolo per presentarlo a mio padre si è comportato esattamente nello stesso modo è saltato sul tavolo e ha cercato di graffiare e mordere la mummia ciò ha provocato la collera di mio padre e la sua conseguente sentenza di esilio di cui è vittima il mio povero silvius durante l'assenza della giovane donna il dottor winchester aveva tolto la medicazione dal polso del padre la ferita era netta e i tagli avevano la forma di solchi rosso vivo il medico spiegò la carta assorbente lungo la linea dei segni fatti dagli artigli del gatto e l'appoggiò sulla ferita nel frattempo al solo sguardo e con aria trionfante ci fece segno di avvicinarci i segni lasciati sulla carta corrispondevano a quelli della ferita al polso non c'era bisogno di alcuna spiegazione quindi aggiunse sarebbe stato meglio che silvius avesse mancato alla parola data restammo tutti in silenzio per un istante poi la signorina trello ni protestò ma silvius non era qui ieri sera ne siete sicura? potete provarlo se fosse necessario esitò prima di rispondere ne sono certa ma temo che sia difficile da dimostrare silvius dorme nella mia camera in un cesto l'ho certamente messo a letto ieri sera mi ricordo perfettamente di avergli steso addosso la copertina e di averlo quindi rimboccato questa mattina l'ho tolto io stesso dalla cesta non ho notato la sua presenza qui in nessun momento comunque ciò non significa molto poiché ero troppo preoccupata per mio padre per accorgermi di silvius il dottore scosse la testa con tristezza in ogni caso ormai è inutile cercare di provare qualcosa qualsiasi gatto se avesse avuto delle tracce di sangue sulle zampe le avrebbe pulite in un tempo cento volte più veloce di quello impiegato dal sangue a colare restammo tutti in silenzio che fu nuovamente rotto dalla signorina trello ni ma ora che ci penso non può essere stato il mio povero silvius a ferire mio padre la mia porta era chiusa quando ho sentito quel rumore per la prima volta e anche quella di mio padre era chiusa quando mi misi in ascolto quando sono entrata l'aggressione si era già verificata è stata quindi inferta prima che silvius sia potuto entrare questo ragionamento era perfetto specialmente per me che sono avvocato e avrebbe convinto anche una giuria ero molto contento di vedere silvius assolto da questo crimine probabilmente perché era il gatto della signorina trello ni a cui lei voleva tanto bene gatto fortunato il suo padrone era chiaramente felice quando mi sentì verdetto non colpevole dopo essere rimasto un po' in silenzio il dottor winchester osservò a questo punto devo le scuse a messer silvius ma sono curioso di sapere perché è tanto infastidito da questa mummia ha lo stesso atteggiamento con le altre mummie della casa ce ne sono parecchie suppongo entrando ne ho viste tre all'ingresso ce ne sono molte effettivamente rispose la giovane donna a volte mi chiedo se sono in una casa privata o al british museum ma silvius non si è mai interessato a nessuna al di fuori di questa probabilmente perché la mummia di un animale e non di un uomo o di una donna può darsi che sia quella di un gatto osservò il dottore alzandosi e attraversando la stanza per andarla a esaminare da vicino sì proseguì è la mummia di un gatto bellissimo non avrebbe mai avuto un tale onore se non fosse stato l'animale favorito di qualche personaggio importante guardate una scatola dipinta e occhi di ossidiana esattamente come per una mummia umana è straordinario come un animale possa riconoscere un rappresentante della sua specie qui c'è un gatto morto e nient'altro può avere quattro o cinquemila anni un gatto diverso di un'altra razza di un altro mondo è pronto a saltargli addosso come se fosse vivo mi piacerebbe fare degli esperimenti con questo gatto se non avete nulla in contrario signorina Trelawney lei esitò prima di rispondere certamente fate pure tutto quello che ritenete necessario spero che non sia niente che possa fare del male o disturbare il mio povero Silvius oh andrà tutto bene a Silvius è l'altro gatto che mi interessa che intendete dire? Messer Silvius attaccherà e l'altro subirà i suoi attacchi subirà c'era un'aria di sofferenza nella sua voce il sorriso del dottore si allargò oh vi prego rassicuratevi l'altro gatto non soffrirà nel senso in cui intendiamo noi salvo che nella sua struttura e nel suo aspetto esteriore che intendete dire? semplicemente questo mia cara signora l'avversario sarà un gatto mummificato come questo da quanto mi è stato detto ce ne sono molti al museo vado a cercarne uno e lo metterò al posto di questo spero non pensiate che questo temporaneo cambiamento vada contro le istruzioni di vostro padre per cominciare chiariremo se Silvius è ostile a tutti i gatti mummificati o solo a questo in particolare non saprei disse lei con voce incerta le istruzioni di mio padre sembrano molto categoriche poi dopo un momento di riflessione proseguì ma nelle attuali circostanze tutto ciò si può deve essere fatto penso che non ci sia niente di particolare nel caso della mummia di gatto a questo punto mi venne un'idea una sorta di ispirazione se sentivo già l'influsso di quell'odore non era forse possibile che il malato che aveva trascorso metà della sua vita in quell'aria ne avesse progressivamente per un processo lento ma sicuro assorbito nel suo organismo una quantità tale da avere provocato un qualche effetto cominciai a fantasticare non andava bene non dovevo farmi distrarre da strane ossessioni avevo dormito solo poche ore la notte precedente e sarei rimasto sveglio quella successiva senza palesare le mie intenzioni poiché temevo di aggravare le preoccupazioni della signorina Trelawney scesi dalle scale e usci dalla casa trovai subito una farmacia dove comprai una maschera per respirare quando tornai erano le due il dottore sarebbe tornato a dormire a casa sua l'infermiera lo accompagnò fino alla porta della camera del malato per ricevere le ultime istruzioni la signorina Trelawney era sempre accanto al letto il sergente Doe che era rientrato nel momento in cui usciva il dottore si mantenne in disparte quando l'infermiera ci raggiunse ci accordammo per i turni di veglia alle due sarebbe stata sostituita dalla signorina Trelawney così, secondo le istruzioni del signor Trelawney ci sarebbero sempre stati nella camera un uomo e una donna e ciascuno di noi avrebbe dato il cambio in modo che ogni nuovo turno di veglia sarebbe montato di guardia solo dopo avere saputo che cosa era successo mi coricai sul divano della mia camera dopo aver incaricato uno dei domestici di svegliarmi poco prima della mezzanotte poco dopo dormivo quando mi svegliai mi ci volle un po' di tempo per riprendere conoscenza e capire dove mi trovassi tuttavia quel breve sonno mi aveva giovato e così potevo considerare le cose che mi circondavano sotto un profilo migliore di quanto non avessi potuto fare prima durante la serata mi sciacquai il viso e mi rinfrescai quindi entrai nella camera del malato camminai senza far rumore l'infermiera era seduta accanto al letto calma e vigile e l'investigatore era seduto in poltrona nella penombra all'altro capo della stanza mi avvicinai e lui si mosse solo quando gli fu proprio accanto mi disse allora a bassa voce va tutto bene non ho dormito una frase che avrebbe potuto risparmiarsi do è sempre così a meno che non sia sfacciatamente bugiardo quando gli dissi che il suo turno di guardia era terminato e che poteva dormire fino alle sei mi parve molto sollevato e se ne andò rapidamente arrivato alla porta si voltò e tornò verso di me ho il sonno leggero e la pistola con me quando uscirò da questo odore di mummia avrò la testa meno pesante aveva avuto la mia stessa sensazione di sonnolenza per molto tempo restai seduto formulando ipotesi su ipotesi che costituirono un insieme disordinato a causa degli avvenimenti del giorno e della notte precedenti mi sorpresi nuovamente a pensare a quell'odore esotico e provai una piacevole sensazione non avvertendolo più come prima la maschera respiratoria funzionava ripresi completamente l'uso dei sensi un grido acuto mi risuonò nelle orecchie la stanza si era improvvisamente illuminata ci furono dei colpi di pistola uno, due e del fumo bianco nella camera quando riacquistai completamente l'uso della vista avrei potuto urlare per il tremendo spettacolo che mi si parò davanti bene io adesso mi fermo mi fermo vado avanti domani notte con il capitolo quarto questo è un racconto per chi è arrivato dopo composto da 20 capitoli è un racconto lungo un romanzo breve diciamo e quindi non ce la farei a finirlo tutto in una serata perché è più lungo di 100 pagine quindi penso di andare avanti domani inizierò prima questa notte sono partita quasi alle due perché ho fatto la lettura nella sezione del canale dedicata agli abbonati comunque quello che sto pubblicando sulla parte dedicata agli abbonati la ripubblicherò anche fra qualche giorno sul canale telegram per cui se volete ascoltarli vi fa piacere e non vi dispiace ovviamente ricevere tutte le notifiche delle mie attività sul canale e sui canali amici insomma mi potete cercare digitando il mio nome Rosanna Lia ciao Fabio sono contenta che il racconto ti piaccia noi se vi fa piacere ci vediamo domani notte penso intorno a mezzanotte o magari anche un pochino prima comunque vi aggiornerò sui vari social e sul canale telegram quindi vi abbraccio tutti grazie Fabio e grazie a tutti voi che siete stati qui in mia compagnia nonostante lo scarsissimo preavviso perché praticamente ho fissato la live e sono andata in live tre minuti dopo quindi non c'era preavviso spero che l'audio sia migliore ho trovato il modo di avvicinare il microfono quindi parlando più vicino mi auguro che la qualità sia migliore rispetto alle live precedenti e aspetto comunque vostri feedback io vi abbraccio e vi auguro la buonanotte ci si vede nelle prossime ore sui vari social e se vi fa piacere domani notte per il proseguimento di questo racconto grazie Fabio ciao a presto